Sciopero dei benzinai dal 14 al 17 dicembre. I motivi non godono alcun sussidio dallo Stato. La categoria dei dipendenti di pompe di benzina e distributori, circa 100.000 persone, non gode infatti di alcun sussidio dallo Stato, nonostante il calo di fatturato che ha colpito il settore e il crollo della circolazione statale. Da qui la decisione di uno sciopero generalizzato dalla sera di lunedì 14 alla mattina di giovedì 17 dicembre. Resteranno dunque chiuse tutte le stazioni di servizio, sia sulla rete stradale ordinaria che in autostrada, come riporta teleclubitalia.it. Nel comunicato delle associazioni di categoria aderente allo sciopero, la FAEB, si spiega che la decisione sia resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo a inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti nel numero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi decreti ristori. I rappresentanti dei distributori di carburanti sottolineano come noto la distribuzione di carburanti e classificata come servizio pubblico essenziale, dovendo garantire, pur nelle attuali, come già nelle passate circostanze emergenziali, la continuità e regolarità dell'attività nell'interesse della collettività per consentire lo spostamento delle persone e il trasporto di ogni genere di merci. Infine, conclude, ne consegue che i gestori, oltre a subire contrazioni drammatiche del proprio fatturato per effetto delle restrizioni alla mobilità e al coprifuoco notturno, non hanno alcuna possibilità di contenere i notevoli costi fissi necessari a mantenere l'attività di distribuzione a disposizione del pubblico. Ciò che già in questi giorni sta causando sul territorio è chiusure incontrollate e forzate a causa della mancanza di liquidità e della impossibilità di acquistare forniture di prodotti, fatti che preludono all'ormai prossimo e progressivo fallimento delle piccole imprese di gestione con riflessi drammatici sui livelli occupazionali del settore che dà lavoro a quasi 100.000 persone.